Resta un problema irrisolto la questione cinghiali che, come nel resto d'Italia, sta interessando in maniera sempre più pesante anche il Vallo di Diano, non solo nelle aree montane, ma ormai anche nei centri cittadini. Nonostante le numerose segnalazioni di ungulati che danneggiano colture e terreni, spingendosi sempre più vicino alle aree densamente abitate, incuranti della presenza umana che viene inevitabilmente scansata dai cinghiali, resta tutto fermo senza che da governo e regioni vengano adottate le misure necessarie ad arginare il fenomeno, ma piuttosto facendo registrare un forte proliferare degli ungulati su tutto il territorio. Un incremento che si regista anche in altre specie di animali selvatici e che, come evidenziato anche dalla Col di Retti, è dovuto in special modo all'emergenza Covid con la fauna selvatica che pare aver preso possesso delle città spopolate per effetto delle restrizioni e dei divieti. Sul tema è intervenuto anche il consigliere comunale di San San Antonio Citera, in virtù anche di una recente vicenda che ha visto un brango di cinghiali attraversare le strade di campagna del centro ai piedi del Cervati. La situazione, dichiara Citera, è ormai ai limiti della sopportabilità. Sembra che il problema non interessi a nessuno, come sembra non interessare a nessuno quanto accade quotidianamente alle coltivazioni e all'essere umano. Il consigliere comunale di San Sanse evidenzia come ad oggi appaia sempre più logico pensare che il territorio, anche nelle città, non appartenga più all'essere umano ma sia di predominio della fauna selvatica ed in particolar modo dei cinghiali, visti anche i recenti dati diffusi da Coldiretti, che parla di un aumento della popolazione degli ungolati del 15% dati di luglio, raggiungendo quota 2 milioni e 500 mila cinghiali presenti anche nelle città. Non si può prescindere, dichiara Antonio Citera, dalla messa a punto di un piano di controllo e riduzione della pressione della fauna selvatica in grado di agire su più fronti, dalle difese passive alla diffusione delle gabbie di cattura, dalle battute di selezione alla messa in atto di azioni di riduzione della capacità riproduttiva. Citera si sofferma in particolare sui danni provocati al settore agricolo, che sia aziendale o di produzione personale, ma non dimentica quanti sono vittime di incidenti stradali a causa proprio della presenza di cinghiali. Siamo veramente nel degrado totale, sottolinea duro il consigliere comunale di Sanza, eppure nessuno è impegnato a trovare una soluzione per ridurre il fenomeno. Penso che la politica a livello nazionale, invece di pensare ad aumentare le tasse a chi non riesce ad arrivare a fine mese, dovrebbe intervenire seriamente sull'emergenza. È ora di dire basta, conclude Antonio Citera. La gente ha paura di uscire di casa, ha paura di guidare e quindi bisogna agire con estrema urgenza. Grazie.